Ciao a tutti, impara a gestire le tue emozioni e i tuoi comportamenti. In questo video voglio spiegarti come imparare, come fare a gestire le tue emozioni e i tuoi comportamenti. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere tra quattro livelli di abbonamento, abbonamenti base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminarie del vivo, abbonamento Master Consulting con in più una consulenza telefonica e poi c'è l'abbonamento, cosiddetto l'abbonamento live per partecipare alle mie live al costo di un caffè al mese. E veniamo ai meccanismi di autorregolazione. E quindi ha la capacità di gestire le proprie emozioni, la capacità di gestire i propri comportamenti. Allora, dobbiamo imparare a autorregolarci. Diciamo, autorregolarci cosa significa? Significa imparare a gestire le nostre emozioni, è fondamentale questo, e imparare a gestire i nostri comportamenti, cioè a diventare padroni, diciamo così, dei propri comportamenti e padroni delle nostre emozioni. Spesso noi mettiamo in atto tutta una serie di comportamenti di cui non siamo consapevoli e sperimentiamo tutta una serie di emozioni di cui non siamo consapevoli e che non sappiamo gestire. Imparare ad autorregolare i comportamenti ci consente di mettere in atto i comportamenti giusti, controllando gli impulsi che magari ci potrebbero far fare delle cose sbagliate, come non sfumare, mangiare troppo, oppure litigare con qualcuno. Imparare a gestire i propri comportamenti significa fare esclusivamente quello che vogliamo fare. Ecco, questo è molto importante e ci consente, diciamo, di vivere molto meglio la nostra vita. Invece gestire le emozioni, regolare le emozioni, significa reindirizzare il flusso spontaneo di emozioni su obiettivi, diciamo, di sperimentare, trasformare anche emozioni negative in qualcosa di positivo. Ad esempio la rabbia potrebbe essere trasformata in motivazione a raggiungere un obiettivo. Ecco, questo è veramente fondamentale perché anziché tenerci un'emozione che implodendo dentro di noi, diciamo, ci genera sicuramente come un veleno mentale dei problemi, possiamo indirizzarla o delle depressioni verso un obiettivo e quindi diventa energia. Inoltre, verso obiettivi che ci permettono di togliere energia, come abbiamo detto prima, comportamenti che non ci piacciono, come, non so, fumare, bere, eccetera. Quindi possiamo togliere emotività a questi comportamenti e indirizzarli su qualcosa di veramente positivo per noi. Come possiamo migliorare questo meccanismo di autoregolazione? Allora, ovviamente la capacità di gestire le nostre emozioni, la capacità di gestire i nostri comportamenti è un percorso che può durare tutta la vita, si sviluppa nel corso di tutta la vita. E, diciamo, queste abilità possono essere sempre migliorate. Esistono molti modi per riuscirci, possiamo iniziare, diciamo, con la definizione di un obiettivo. Questo è il punto di partenza. Dobbiamo sapere dove indirizzare le emozioni, dove indirizzare i nostri comportamenti. Questi sono punti fondamentali che dobbiamo imparare a sviluppare. Se diventiamo consapevoli di noi stessi, riusciamo a raggiungere dei risultati anche molto importanti. Sviluppare consapevolezza ci porta a vivere sicuramente meglio la nostra vita, quindi ci porta sicuramente ad avere un feedback positivo sulla nostra vita. Quindi dobbiamo imparare ciò che è veramente positivo per noi. Dobbiamo autoregolarci per adattarci alle situazioni, definire quelli che sono i nostri punti di forza, definire le emozioni che ci rendevano felici, in modo tale da poter creare degli ancoraggi emozionali con queste emozioni. Quindi dobbiamo iniziare a capire quali sono i trigger, quali sono le molle, quali sono gli interruttori che ci fanno scattare le emozioni negative e quelli che ci fanno scattare le emozioni positive, cioè gli ancoraggi emozionali positivi e gli ancoraggi emozionali negativi, per poter poi sviluppare nel tempo ancoraggi emozionali positivi ed abbattere gli ancoraggi emozionali negativi. Quindi questo è un'altra cosa molto importante che possiamo sicuramente praticare. Praticare l'autodisciplina, ad esempio, ci permetterà di ottenere molti risultati, ci permetterà di essere felici anche quando ci sentiamo, da un certo punto di vista, senza speranza e gli obiettivi sembrano fuori dalla nostra portata. Quindi questo è un qualcosa che noi possiamo fare, restare concentrati sui risultati dopo aver completato, diciamo, con successo il nostro progetto. Impariamo a riformulare i pensieri negativi, trasformarli in positivi, perché poi alla fine sono i pensieri che governano tutto. L'importante è anche praticare l'autodisciplina, cioè rafforzare, diciamo, la nostra mente, ad esempio, non so, praticando magari un giorno digiuno consapevole, quindi renderci conto che noi possiamo, diciamo, abbiamo potere di, diciamo, gestire le situazioni. Possiamo tranquillizzarci praticando mindfulness, cioè quindi la consapevolezza della respirazione, che ci permette di restare calmi anche quando siamo sotto pressione e questo ci consente, ci dà dei benefici. Ci porterà sicuramente più successo nella vita, ci porterà sicuramente a socializzare meglio, ci porterà sicuramente a eliminare le cattive abitudini. Ecco, questi sono tutti i vantaggi, ma non solo questi, sono tantissimi i vantaggi che possono nascere dalla capacità di gestire le emozioni e dalla capacità di gestire i comportamenti. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, se non l'hai ancora fatto, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, seguimi su TikTok, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, ci sono quattro livelli di abbonamenti, abbonamento live, abbonamento base, abbonamento top e abbonamento master consulting. Ciao a tutti!